Siamo nello studio milanese dell'avvocato matrimonialista Valeria De Vellis per continuare a parlare di un argomento molto interessante, anzi una questione spinosa, e cioè in caso di separazione o di divorzio l'assegnazione della casa familiare. E allora chiediamo subito all'avvocato De Vellis ma se la casa non appartiene né all'uno né all'altro coniuge, bensì a un terzo o ai nonni, che cosa succede? Allora bisogna sempre poi guardare sulla base di quale titolo i coniugi occupano questa casa familiare di proprietà altrui. Nel caso dei nonni l'ipotesi appunto più comune è quella di un contratto di comodato. Non sempre però questi contratti di comodati vengono registrati e non sempre hanno un termine perché molto spesso sono dei contratti verbali perché tra genitori e figli ovviamente si fa così. In questi casi, anche qui è intervenuta appunto la Corte di Cassazione a dire che in questi casi, in caso di separazione, per effetto del provvedimento di assegnazione, la moglie, che appunto sia assegnataria, subentra automaticamente nel contratto di comodato, quindi nella posizione ovviamente di comodataria. Che cosa vuol dire? Vuol dire in sostanza che la moglie ha diritto a rimanere con i figli nella casa familiare anche se la casa è di proprietà dei nonni, supponiamo paterni, proprio perché, dice la Cassazione, mettendo i nonni, mettendo a disposizione della famiglia, del figlio e anche della famiglia dei figli, dei nipoti, questa casa, hanno impresso al bene un vincolo, un vincolo di destinazione, d'uso. Quindi fino a quando i figli poi non sono sufficienti, non crescono, eccetera, il bene deve rimanere a disposizione della famiglia. A meno che non ci sia un grave e imprevedibile bisogno dei nonni e allora in questo caso il contratto di comodato viene meno e quindi la casa deve ritornare nella disponibilità dei nonni. Il consiglio che io do in questi casi ai nonni è di fare dei contratti scritti e registrati e che abbiano un termine, che abbiano un termine, di modo che sia chiaro che la casa, sia chiaro a tutti, quindi alla famiglia del figlio, eccetera, che poi la casa deve essere restituita entro un determinato termine. Se non si mette il termine ci si espone a questa conseguenza. E allora una domanda, se i nonni vedono che queste persone, i loro figli, eccetera, litigano, stanno in crisi e capiscono il problema e fanno proprio all'estremo limite il contratto, è valido o no questo in cui il contratto, io lo chiamo quello dell'assegnazione incomodato? È valido oppure no? Sì, sì, è valido. Si può fare in qualsiasi momento? Il contratto si può fare in qualsiasi momento. Anche quando comincia la separazione fra loro? Sì, in teoria sì. Il problema è che è molto difficile che poi la moglie sottoscriva questo contratto nel momento in cui c'è una situazione di crisi coniugale. Certo, potrebbe farlo il figlio. L'importante... E basterebbe? Sì, sì, basterebbe, certo, perché in questo caso è la mamma e la madre, sì, sì. Allora, diciamolo pure, che tutti i nonni possono fare questa azione. Possono, possono. Senza questione, perché io immaginavo invece che il giudice, vedendo che è stato fatto proprio all'ultimo momento, sia stato artatamente messo in atto invece che una volontà vera e propria. Certamente poi queste sono considerazioni difensive che sicuramente poi vengono fatte dagli avvocati, però intanto c'è un contratto scritto, registrato, che ha un valore. E basta uno, anche l'uscente, anche contro firmi, se i genitori sono suoi. L'importante è che venga fatto prima del provvedimento di assegnazione, perché a quel punto... Sì, subito, appena inizia la... Esatto, appena si sente aria di crisi. Ecco, scusi, eh, sottolineo, aria di crisi o inizio proprio dell'azione legale di separazione? Sarebbe meglio prima, prima si fa e meglio è. E se si fa nel momento in cui inizia la separazione? No, si può fare anche quando inizia la causa di separazione. In questo caso, se viene registrato il contratto e c'è un termine, e poi il provvedimento di assegnazione successivo alla registrazione del contratto, è chiaro che in quel caso la moglie subentra in quel contratto, quel contratto che è stato registrato, che è un contratto scritto e che ha un termine. Quindi non può subentrare in un diverso contratto. Quindi io lo farei comunque. Ecco, mettiamo il caso di un figlio maggiorenne che studia, che però non è indipendente perché ancora non si mantiene, e che torna saltuariamente nella casa assegnata, in questo caso sempre alla madre, perché si privilegia la madre, mi sembra. E che cosa succede per la legge? È presa in esame oppure ci può stare solo la moglie, insomma, separata? Sì, anche qui la legge non dice nulla a riguardo. Anche qui sono stati giudici a chiarire questo punto. E secondo me forse in questo caso, in maniera un po' eccessiva, i giudici continuano anche in queste situazioni a mantenere l'assegnazione della casa coniugale, anche nel caso del figlio universitario. Il criterio indicato dai giudici è questo, cioè se il figlio ritorna regolarmente nella casa familiare, nonostante magari sia uno studente fuorisede, no? Quindi tutte le volte che ne ha la possibilità, nei weekend, durante la settimana, durante le vacanze, e allora la casa viene, l'assegnazione della casa viene mantenuta. Se invece il figlio si è ormai definitivamente allontanato e quindi si reca nella casa familiare solo per far visita alla madre che lo ospita, diciamo, come un ospite, quindi la sua permanenza nella casa è proprio legata a una mera ospitalità, allora in questo caso l'assegnazione viene revocata. Secondo me c'è la tendenza in questi casi a mantenere un po' troppo questa assegnazione, perché specialmente quando si tratta di mobili cointestati, sarebbe anche giusto che in questi casi l'altro genitore, quasi sempre il padre, rientrasse in possesso del bene e potesse venderlo, metterlo al reddito, insomma, potesse dispormi. Certo. Adesso, attenzione, unioni civili e convivenze, sono due aspetti importantissimi. Che cosa succede per la legge quando si separano, appunto? La legge sulle unioni civili stranamente prevede il diritto della parte, cioè il caso di divorzio prevede che la parte, diciamo, economicamente debole, oltre ad avere il diritto agli alimenti, abbia anche il diritto all'assegnazione della casa familiare. Ha detto divorzio, però non esiste il divorzio se non ci sono sposati. Diciamo di scioglimento dell'unione, ecco, sì, è più corretto parlare di scioglimento dell'unione. Quindi prevede addirittura questo diritto. Quindi prevede un diritto, cioè in questo caso le coppie omosessuali avrebbero più diritti delle coppie coniugate senza figli, perché noi sappiamo che invece se c'è una coppia coniugata senza figli, il partner economicamente debole non ha diritto assolutamente all'assegnazione della casa coniugale, perché la casa coniugale viene assegnata, dice la legge, solo in presenza dei figli. Invece per le coppie omosessuali non è così. Adesso però bisognerà vedere poi i decreti attuativi, che cosa, se manterranno questa disciplina, se introdurranno delle modifiche a una disciplina che a mio parere è ingiusta. È ingiusta perché si risolve in un'espropriazione del bene, perché l'assegnazione in presenza dei figli è comunque soggetta a un termine. Quindi quando i figli crescono, se ne vanno, diventano autosufficienti, il coniuge proprietario rientra nella disponibilità del bene. Se invece la casa viene assegnata alla parte debole, in teoria non c'è neanche un termine, quindi l'assegnazione si risolve in una vera espropriazione del bene. Molto interessante. Convivenze. Ognuno si può liberare, esce, va, fa quello che vuole oppure no? Allora, sulle convivenze funziona esattamente come nel matrimonio. Cioè, se ci sono dei figli minori, i figli hanno lo stesso diritto di conservare l'habitat domestico. I figli nati fuori dal matrimonio hanno gli stessi identici diritti dei figli nati nel matrimonio. Quindi, anche in questo caso, la casa viene assegnata al genitore che è collocatario dei figli minori. Non c'è nessuna differenza perché i figli sono stati completamente equiparati. Né un genitore, ipotizziamo il peggio, in vista della mancanza della possibilità di abitare da qualche parte, fa causa per prendersi i figli, dice io ho i figli, arrivederci, grazie. Io lo può fare questo al partner o no? Purtroppo accade spesso. Ah, quindi non è un'immaginazione, come dire, qualcosa di impossibile. No, 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 assolutamente. Purtroppo ci sono tante situazioni. L'uso dei figli. Certo, in cui i figli vengono utilizzati e appunto se ne chiede il collocamento anche per varie ragioni, magari anche per far dispetto all'altra parte, ma anche per rimanere nel possesso della casa familiare. Grazie allora, Avvocato De Vellis. Grazie a voi. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.